Ritorniamo alla serata musicale proposta dall'Associazione Andrea Loggia, con una composizione di Jacob de Anne, compositore olandese, autore di brani per banda, che i nostri maestri hanno avuto il piacere di conoscere. A loro non eslugge una, e forse è questo il segreto del loro successo, perché stanno sempre a passo con i tempi, stanno sempre un passo avanti, devono sempre cercare l'originalità, qualcosa che dia sempre energia ai loro concerti. Il brano si intitola The Sand and the City, il stando e la città. Questa composizione tumultuosa racconta la leggenda della città di Zuolle in Olanda. Si narra che nelle acque che circondano l'abitato vivesse un drago che, apparso, minacciò di distruggere la città con il suo alito di fuoco, se un sacrificio umano non gli fosse stato offerto. In soccorso degli abitanti di Zuolle intervenne San Michele Arcangelo, che affrontò il drago in una battaglia senza uguali. Come un cavaliere armato di una spada, l'arcangelo decapitò il drago, e così la città fu salva. Per rappresentare l'arcangelo Michele, il compositore ha scelto il brano Laudate Dominum. Il drago, invece, è evocato da una serie di accordi minacciosi. The Sand and the City dirige il maestro Giuseppe Vitello. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.